Lascia uno spazio sul palco, si prepara il Lupe in terzo, primo Lupe in terzo Bene, pronti a cominciare con i gruppi, Lupe in terzo Se eventualmente si fa fare anche Peter Pan, noi lo accogliamo, Lupe in terzo E poi Peter Pan e il peso sul palco, Peter Pan e il suo gruppo Eccolo qua Al numero 3 abbiamo i Puffi di Turi Viva Diagra! I Puffi di Turi E allora, numero 4 Il Ushama, Pagome e Sanbo Lascia, lascia, per te Allora, Il Ushama, Pagome e Sanbo La semplicità numero 5 La semplicità Vabbè, magari Fudurama è pronto Fudurama Coppia, anti-gruppo, numero 7 Fudurama 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 E... La notte per l'altro Le cocche Ascettiamo le cocche Ma non troppo Anche perché poi c'è il Zeg e l'Eologra Che possono avvicinarsi al palco Sì, che è 30 anni Quindi credo che si rende un applauso Alice, il paese dell'India grande numero 10 bellissimo Alice ora tocca ai fatti i genitori Timmy Turner gruppo numero 11, anzi numero 12 dopo i fatti i genitori Timmy Turner ci sono Happy 3 Friends Happy 3 Friends a seguire al 13 Shrek Shrek Famiglia sul palco ci vogliamo verso la fine abbiamo il numero 14 Adventure Times brava tutti brava tutti brava brava Adventure Times e al 15 mi sa che toccono le Wings un applauso alle Wings infine numero 16 per Pikachu Girls Pikachu Girls chiudono la stena dei nostri gruppi ma se la coppia e singole hanno sfidato per voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti